comunque ragazzi benvenuti sono su play now background sono con moloch l'ultima volta siamo riusciti a vincere ma vediamo se adesso riesce a sopravvivere anche lui se non ho mazzo di nuovo con l'auto e vediamo ragazzi ci proviamo aspettiamo che carica la fachitozza e ci becchiamo dopo la sigla già ci sta andando uno a due tre quattro due coppie ci sono anzi tre coppie ma c'è il bordello c'è? no mare perché tu ci sei arrivato io no sta puttana eh io sono senza un cazzo adesso cioè io non mi carico la texture adesso come dove cazzo vado? torna indietro c'è una casuzza sì la casuzza c'è mare me lo sto facendo ammazzare una casuzza c'è ma dove cazzo è andato a finire il labio? ma buttatelo scelti porco cane ok dove andiamo? aspetta seguimi seguimi dove sei? mi chiamolo chi ti ammazzò allignati io dove sei? eh sono andato in città dove stai? stai ruotando? io ho preso una pistola a me sono andato in una parte dove non ho visto il nemico quindi sto andando qui cercando di equipaggiare almeno un bazooka esiste il bazooka? non è esiste? no no purtroppo no però fosse bello va fosse bello un pare un bello bazooka gli fa salutare tutta l'aria un pare si va e li ho becchio e li ho fai il bazzooka che almeno in ginocchio dico come? ti ho beccato con bazooka che ha trovato subito il M16 in mare un bariano 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 qui c'è lo zaino qui c'è il caschetto alla nostra destra si stanno sminchando come i cani lo stanno smingando, questo è catanese, ti stanno smingando un neo punto sapo minchia dobbiamo mettere la macchina e ce la dobbiamo andare ce la dobbiamo andare si si presto il tuo cazzo, prendiamo subito qualcosa e ce la andiamo ma nisi pazzo, qua dobbiamo andare via andiamo via, andiamo via, vieni, vieni vieni, 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 abbiamo il punto sapo a casa di cristo non ce la faccio, oh, nemico, nemico, quanti nemico a nord ovest, nord ovest dietro labbero nord ovest dietro labbero nord ovest, qual è albero? nord ovest, 345 preciso non lo vedo è dietro labbero ma ci faccio la squadra no, mi hanno visto? mi sto sparando eri tu? mezza sicca ah, visto, visto, ora l'ho visto oh, sparano, sparano a me aiuto, aiutami spara quello, pazzo l'ho buttato giù quello, aiutami, aiutami, quello mi sto sparando no, quale? nell'abbero, ce n'è uno adesso lì ha cavacciato è lì, è lì, l'ho beccato, l'ho ucciso vaffanculo l'ho ucciso, l'ho ucciso minchia, l'ho ammazzato di tutte e due meno male che erano labbero questi no, guarda, lasciamola accetto che la prendiamo è un'Italia aspetta, aspetta che non vedo una minchia ambare, aspetta, devo devo levare la telecamera da qui dove cazzo vuoi? aspetta, devo curarmi, devo curarmi aspetta un attimo fammi curare devo spostare la telecamera perchè ce l'ho messa sopra il lutto e non vedo un cazzo hai trovato un mirino? sparano eh, a me, porca puttana da dove? eh, non l'ho capito dov'è la macchina? eh, eh hai io solo senza coppia? hai, porca puttana mi ha incommato che cecchino bastardo dove? ecco l'ho detto a me ucciso, ucciso, ucciso ucciso, ucciso ok mi ha sparato in testa ce ne ho fatto un altro no, ma è molto tutto intanto non siamo morti è razzurabilitare dai stai, prendete la macchina anche tua no no epico 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 ahahah moto di madonna però qua ci vuole un replay qua ci vuole un replay ragazzi troppo bello tor ahahah tutto da colato tutto da colato tutto da colato e io mi sono avantiato troppo bello ahahah 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 andiamo qua va minchia minchia quel ciotto troppo bello mi ricamiona aaaaaaah vattene via vattene via vattene via vattene via non mi dire che ti hanno ammazzato no no via 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 vattene via allora in pratica ragazzi adesso dove ho ammazzato quei due e molte ha ucciso l'altro e in pratica siamo a centro della zona salva quindi non abbiamo un metodo mono però però ragazzi eh volendo possiamo camperare eh visto che siamo dentro la zona salva al centro della zona salva non conviene andare all'aperto anche perché ho un caschetto livello 3 sento passi fuori a c'è ore che te lo dico non deve dire c'è ore deve dire facciore io so posso anche sparare però dove sono andato a finire erano a nord eh a sinistra a sinistra non non so allora ragazzi in pratica molte si è buttato perché c'erano i familiari che parlavano ehm adesso mi scriverà su steam ehm noi siamo in zona salva guardate ragazzi ehm siamo in zona salva quindi ehm siamo messi bene molte se mi senti devi guardare alla tua ehm in pratica aspetta eh devi guardare a dove l'ho messo il punto giallo a sud est scrivimi su steam con con shift tab per per indicazioni non così hai capito guarda verso quella zona purtroppo ragazzi adesso lui non può parlare ma ed è difficile sparano chi cazzo ha sparato eri tu eh siamo leggermente fuori dobbiamo andare più ampi hai sparato tu a qualcuno aspetta usciamo fuori e andiamo nelle case più ampi vieni 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 casa gialla merda aspetta parola qua no no andiamo andiamo qua dietro vieni vieni casa gialla merda mi hanno sparato mi hanno sparato ci hanno spottato ci hanno spottato ci hanno spottato mare ci hanno spottato occhio occhio che lo sanno che siamo qui eh chiudi la porta subito appena entri chiudi la porta mori ci hanno spottato eh bravo c'è palazzo dietro di noi che possiamo andare a cantare lì volendo mi guardo dietro eh 12 player eh e dobbiamo andare a verso questa zona qui merda dove sono? da qui non posso merda merda non abbiamo altro uscita sto uscendo merda mi hanno sparato ucciso uno tu hai ucciso l'altro sono ancora vivo non riesco a capire dove è in base mi duro mi duro mi duro massimo vettibrow due due ucciso ucciso quello che ti ha ammazzato dove è? l'ho ucciso l'ho ucciso c'era un altro tre in vita tre in vita ucciso ne manca uno non so dov'è dai che ce la fai dai che ce la fai si 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 e andiamo e andiamo e andiamo e andiamo ragazzi la seconda vittoria consecutiva mamma mia potenza assoluta ragazzi però siamo anche tanto buoni eh ragazzi è spettacolare non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere mamma mia tu ne hai killato uno mi sembra fuori ne avevi killato uno? si ok ne avevi riferito? io l'ho portato a te ah ok io comunque non so la fine quante ne ho killato mi sembra quattro perché già due kill avevo fatti ne ho uccisi quattro ragazzi loro con il silenziatore non hanno capito un cazzo peraltro c'era quello dentro casa che l'ho sparato e non avevo capito che l'avevo sparato nelle spalle cioè ragazzi qualcosa di assurdo ragazzi avevo il silenziatore ragazzi ce la siamo giocati ce la siamo giocata alla grande perché alla fine noi siamo riusciti ad andare al centro della zona salva ragazzi non vi invitate di quelli che dicono dove andate il pro vanno al limite della zona salva e poi vanno in base alla zona salva dovevano andate al centro della zona salva camperate lì e alla fine le kill le fate perché se siete bravi comunque le kill le fate camperate anche per 10 minuti ma negli ultimi due minuti ragazzi andate a fare le kill e vingete la partita se state andate nella zona salva e poi vingete ragazzi vedete così si fa ragazzi 6 kill ho fatto io molte non so come ne hai fatto te 2 2 quindi ragazzi alla fine abbiamo partecipato entrambi abbiamo fatto una bellissima patria ragazzi lasciate tanti like e vi raccomando condividete questo video anche con i vostri amici nei vostri social social network per farmi anche conoscere e magari ragazzi così ho anche più il piacere nel fare i video e nel farmi divertire mi diverto anche io perché è una cosa che mi guardano centinaia di persone è una cosa che mi guardo in un'entitore della persona almeno sono molto più contento e so che sto intrattenendo più persone e mi fa piacere ragazzi vi raccomando lasciate un bel like e commentate in tanti ditemi cosa pensate di questa vittoria e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ci becchiamo alla prossima un saluto da me e da Moroc ciao ciao a tutti ragazzi grazie